Siamo qui davanti alla stazione di Arezzo con i rappresentanti del comitato pendolari sia di Arezzo che della Val di Chiana perché i disagi degli ultimi giorni sono stati soltanto la goccia che ha fatto traboccare un vaso già da troppo tempo colmo. Allora cominciamo a sentire i rappresentanti del comitato di Arezzo. Ormai fare il pendolare con i treni sta diventando veramente un incubo. Il ghiaccio che ha bloccato lo snodo di Olmo è stata l'ultima goccia? Sì, praticamente è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso perché martedì siamo arrivati alla stazione io di solito prendo l'Intercity delle 7.32 la mattina, praticamente la stazione era piena di pendolari perché dalle 6 non transitava alcun treno. Alle 7.45 hanno fatto poi partire un regionale che nasce ad Arezzo, quindi era l'unico che poteva partire imbarcando un sacco di gente e poi facendolo fermare anche nel Val d'Arno, quindi a Montevarchi, San Giovanni, Figline, per cui siamo arrivati a Firenze pieni, il treno era stra pieno. Veramente la gente rischiava poi di sentirsi male. Quindi il motivo qual è stato? È stato che uno scambio è stato bloccato per il ghiaccio. Ora, che oggi si possa sentire una cosa del genere non è assolutamente accettabile, anche perché volevo dire, né che siamo d'estate o a primavera per cui la formazione di ghiaccio è un evento eccezionale, siamo d'inverno, comunque sia il tempo, le temperature sono state preannunciate al di sotto dello zero, quindi con formazioni di ghiaccio probabili. Quindi come si compra l'antigelo per la macchina? Non capisco perché le ferrovie non possono attrezzarsi per risolvere, per venire incontro a situazioni, a imprevisti di questo tipo, perché non è che noi diciamo che gli imprevisti non possano capitare. Certo possono capitare, ma comunque bisogna attrezzarsi. Qui non si parla soltanto di scomodità, di ritardi, ma si parla anche di un danno economico per chi si trova su questi treni. Sì, innanzitutto una battuta. Molti di noi pendolari, anche io ero nel trano di Cristina, ci chiedevamo ma a Bressannone come fanno? È ovvio che qui, appunto come diceva Cristina, non si tratta di un imprevisto. Il disagio è stato notevole, si tratta di un'interruzione di un pubblico servizio che è durata per più di due ore. Quindi noi stiamo valutando l'ipotesi anche di fare un esposto alla magistratura, ma soprattutto vogliamo chiedere alla Regione che, come ha detto l'assessore Cecco Bau, si impegni innanzitutto a controllare che chi gestisce la rete ferroviaria la gestisca al meglio e secondo il contratto di servizio che ha stipulato con la Regione. E poi che la Regione applichi tutte quelle penali che deve applicare ed eventualmente che dia poi un bonus, un'indennità a chi ha subito questo forte disagio. In ferrovia in queste condizioni i pendolari che non riescono ad andare al lavoro è veramente uno specchio triste di come il trasporto locale sia in uno stato di abbandono. Assolutamente. Bisognerebbe che qualcuno dei nostri politici più evidenti, più visibili provasse a montarci sul tema dei pendolari. Si renderebbe conto delle condizioni igieniche che spesso abbiamo, dei ritardi che a volte si dice sono fisiologici, a volte no, e della considerazione che noi pendolari abbiamo presso il mezzo di trasporto. Molto spesso sarebbe solo sufficiente dare delle informazioni giuste, corrette e tempestive per consentirci di prendere magari un treno diverso da quello che avevamo programmato. Tutto ciò non avviene. Tutto ciò, come giustamente diceva lei, testimonia un'incuria e una scarsa considerazione dei problemi di un numero elevatissimo di cittadini, perlomeno di Arezzo. Il comitato pendolari della Val di Chiana ha problemi di tutti gli altri comitati, si è riunito e è nato per protestare per questa situazione. Raggiungere da tutte le zone della Val di Chiana, dalla zona retina, ma anche dalla zona senese, Firenze sta diventando davvero un incubo. Specialmente da quando ci hanno tolto il treno che partiva da Chiusi, raccoglieva il pendolari della Val di Chiana e poi da Arezzo andava direttamente a Firenze. Questo è un disagio che purtroppo non riusciamo a risolvere. Grazie all'intervento attraverso i nostri sindaci, l'assessore Cecobao ci ha garantito che il treno, l'11998 che ci porta ad Arezzo, sia puntuale, mentre invece a quanto pare non succede. Non è la prima volta che succede e continua a succedere probabilmente. E poi per quanto riguarda la manutenzione abbiamo notizie, informazioni da fonti sicure che la causa dello scambio ghiacciato è dovuto molto probabilmente alla mancanza di manutenzione perché se non viene messo il grasso negli scambi congelano, è ovvio. Voi rappresentate un numero importante di cittadini, ricordiamo che anche dalle vallate sono tanti gli aretini, i senesi che si muovono verso Firenze, verso i capoluoghi per andare a lavorare. Siete veramente una spina dorsale dell'economia che rischia di essere pesantemente penalizzata. Sì, siamo penalizzati, già siamo penalizzati perché siamo pendolari e in più con questi disservizi lo siamo ancora, ancora di più. Quindi noi chiediamo veramente un intervento serio, importante da parte dell'assessore al trasporto Shekobau. Speriamo che con il suo intervento questi problemi si risolvano. Soprattutto noi rappresentiamo la Valdichiana, quindi per coloro che devono la mattina prendere il treno a Valdichiana. che spesso si vedono passare il treno che non ferma in Valdichiana e che dobbiamo prendere l'Arezzo e ce lo vediamo passare davanti, il che proprio ci fa saltare i nervi.